Nove gli impianti di videosorveglianza che saranno installati in prossimità di altrettanti istituti di istruzione primaria e secondaria di Marsala al fine di svolgere attività di prevenzione e contrasto contro ogni forma di illegalità. Particolare attenzione sarà riservata a bullismo, aggressioni e spaccio di sostanze stupefacenti, atti che spesso si manifestano nelle vicinanze delle scuole. A partire da oggi l'impresa incaricata di eseguire lavori interverrà nei seguenti istituti. Istituto comprensivo Mario Nuccio, Media Mazzini, tecnico commerciale ITET, liceo scientifico Pietro Ruggeri, liceo Giovanni XXIII, agrario, alberghiero Damiani, tecnico industriale Cosentino e linguistico Pascasino.